Let's play E quest'oggi vi volevo far vedere un paio di cosette Allora, in teoria, settimana scorsa abbiamo registrato, se è andato tutto bene Il video con voi, quindi mentre facciamo delle sfide con voi Quindi settimana prossima dovrebbe uscire quel video lì Io nel frattempo avevo registrato questo, quindi vi ho fatto uscire prima questo Se settimana prossima non esce quel video lì, c'è stato qualche qui, qua, 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 qua Ehm, inoltre, ho visto che hanno aggiunto, ho letto un, che hanno aggiunto una specie, la fisica dei Pokémon Non ho capito bene, se voi avete capito che cosa hanno aggiunto, fatemi sapere Infatti vedo delle cavalcature molto decisamente stranissime Tipo, sto molto seguito da un, da un Mewtwo, non è una cosa tanto A meno che non hanno aggiunto il fatto che posso stare su una cavalcatura e avere un Pokémon che mi segue Allora, a parte il fatto che io non riesco più a togliermi il Pokémon che mi followa Non ho capito perché, cioè I peggio bug che stanno introducendo, maledetti, si vedete C'ho il Rayon, vado su Breed, vado su Follow, lo tolgo e continuo ad avere Rayon Ma cosa? Ma, maledizione Ehm, non mi fa più cavalcare la cavalcatura? Cioè, io ce l'ho, faccio Ride Need Pokémon Rayon Ma non mi dire che è perché l'ho fatto evolvere Dai, bello de zio, ma non si fanno ste cose Ma che cos'è questa cosa che mi fai? Io ce l'avevo, Rayon, ma sei un pezzo di merda L'ho fatto evol... ma che pezzo di merda? Fino ad allora lo potevo usare Guarda, Need Pokémon Rayon, sì, sicuramente è per quello, ragazzi Non me lo fa usare perché non ho il Pokémon Fafanculo Comunque ho scoperto cosa hanno introdotto Ed è questo Pokémon Support Che cacchio significa? Ehm, non ho per niente idea In pratica ci sono Ehm, ci sono All R1, R2 Ok, l'R2 si sblocca a livello 55 L'R3 si sbloccherà ad un livello ancora più alto Allora, quindi vediamo gli R1 Che sono tutti quelli che in teoria potrei fare ora Ehm, ho tutta sta roba abilitata No, un attimo, devo un attimo capire In pratica sembra che se metto insieme questi tre tipi di Pokémon Tipo Hitmonchan, Hitmontop Allora, Hitmonchan ce l'ho The Pokémon si è una più, eh, Formation... Ok, Quick Remote Benissimo, ok Poi li metto Hitmontop No, non mi dire che non ne ho Combine the Pokémon cannot be sent to bat Sì, ma non fa niente, ma lo fai aggiungere Ah, ok Devono essere tutti di almeno Vedi, Activate at Blue Quality è una star Quindi se ho questi tre Pokémon Che sono, diciamo, simili Di tipo combattimento Tutti e tre blu Ehm, almeno blu con almeno una stella Posso combinarli Ehm, e in pratica Dovrebbero guadagnare questo Quindi più un percento di HP SA, ATTAC, Sedef ATTACCO DI FACE Cioè, vengono potenziati tutti Se invece sono viola Questo Se invece sono viola più uno Più il 4% E questo è il massimo Poi penso che con R2 La cosa aumenti ancora di più Interessante Vediamo se posso fare qualche combinazione Tipo questi qua Eh, ma non c'ho nessuno blu di questi Questi dovrei averceli tutti e tre Attenzione Allora, questi forse ce li ho tutti e tre No, questi non ce li ho assolutamente Qui Dugtrio ce l'ho Ehm, Marowak ce l'ho Sì, ma chi cazzo me ne frega Mica li uso questi Cioè, che io li potenzio È giusto per farlo vedere a voi Ma portarli a blue quality Cioè, così a gratis Cioè, non è proprio a gratis Questi qua ne ho due su tre Ehm, questi anche ne ho due su tre Vediamo un po' Se c'è qualcun altro No, qua al massimo ne ho due Sempre su tre Ehm, nessun altro Non ho nessuno dei potenziamenti che mi potrebbe interessare Vediamo gli altri invece Ah, questo addirittura è a quattro O addirittura si arriva a cinque Quindi man mano che avanziamo con l'R2 e l'R3 Aumentano ancora di più Però io vorrei un attimo vedere Allora, se Allora, il problema è che non ho Hitmon Lee Perché se no, questo trio l'avrei potuto fare Hitmon Top lo portava a blue Il problema è che non ho Hitmon Lee Hitmon Lee non ho tanto proprio E do cazzo big Hitmon Lee Allora, facciamo così Se voi volete che vi faccia vedere questo trio Lo posso fare Questo Posso fare questo trio E posso fare anche quest'altro trio dei Pokémon d'erba Dove sta? Ehm, questo qua Butterfly, Beedrill e Parasect Quindi posso fare entrambi i trigli Ehm, però me ne deve valere la pena Quindi, se voi volete che vi faccia vedere Ehm, questa cosa Scrivetemelo nei commenti E in un prossimo video Mi impegno, li porto tutti e tre a grado blu E vediamo che cosa mi combina Così non spendete i vostri artbook Le vostre gemme Il vostro tempo Ma li spendo io E lo faccio vedere a tutti Altrimenti, eh, ragazzi Non li spendo volentieri Cioè, insomma Perché allenare, sì Un Duxir, un Translash E un Marowak Che cazzo me ne faccio Oppure un Butterfly Un Beedrill e un Parasect Cioè Ripeto, cazzo me ne faccio Ehm, l'altra cosa Che volevo capire Ehm, in the selected bot Ehm, l'altra cosa Che volevo capire E se questa cosa Ehm, poi mi impediva Di utilizzare i Pokémon in battaglia Però non penso che sia così Perché è veramente Da mongoplegici Cioè, prima li alleni Li metti qui Li combini Li fai diventare più forti E poi non li puoi usare in battaglia È un po' stupida come cosa Ragazzi, aspettate Forse ho capito È molto utile invece Perché praticamente Ehm, mi potenzia Il tipo dei Pokémon Perché i Pokémon Che metto qui dentro Non li posso usare in battaglia Lo spiega qui Quindi in ogni combinazione Praticamente questa cosa Mi potenzia Gli altri Pokémon Di conseguenza Questo qua Di erba Bug Mi potrebbe essere Veramente utile Per Penso Bellosom Vediamo in squadra Che Pokémon Di tipo Bug Allora, tu sei Dark Eyes Ok, Fire Flying Seekick Grass Quindi a me serviva Qualcosa di Grass O Flying O Water Infatti mi spiega Lì nel support Che se un Pokémon Ha due ruoli Cioè due Due tipi Quel bonus Viene dato a metà Perché ovviamente Essendo i due tipi Gli viene dato a metà Quindi a me interesserebbe Per esempio Il Grass Oppure il Ground Quindi Grass E Ground Sono utili Per me Per la mia squadra Quindi a questo punto Pugia Io lo faccio E basta Allora Ground Questi qua Devo portare A Blue Quality E a Dunastar Questi tre Pokémon Quindi Dugtrio Marowak E Sun Slash Ok Vediamo fin dove arrivo Il primo è andato Ho un Marowak Di Grado Blu Perfetto Il Grado Blu Non è difficilissimo Da raggiungere Quindi voglio dire Una cosa abbastanza fattibile Ora devo portare Il Dugtrio A Grado Blu Ok Quindi mi serve Un Ghastly E ora porto anche Il Dugtrio A Grado Blu E poi Sun Slash Secondo Pokémon Grado Blu Ragazzi Spero di poter Ricomprare Le vite qui Perché così Dovrei riuscire A portarle Ancora il terzo Allora il terzo È Sun Slash Comunque vediamo Se la mia teoria Sta funzionando Comunque penso Proprio di sì Allora dove sta Il Ground Ground è qui Ok Ti aggiungo No Ti aggiungo Dugtrio Perfetto Aggiungimelo E Marowak Perfetto Quindi mi rimane L'ultimo E mi potenzio Il Pokémon Di Grado Ground Dell'1% Ovviamente Prima di inserire L'ultimo Sun Slash Andiamo a verificare Le statistiche Di Rhyperior E vediamo Di quanto aumentano Ok Ce l'abbiamo fatto Sono riuscito A ricomprare Le vite Diciamo Le energie E ho portato Anche Sun Slash A Grado Blu Sun Slash Di livello 1 Quindi dovrei Anche un attimino Potenziarlo Se voglio farlo Aumentare di livello Ma per ora Non me ne fotte Assolutamente Un cazzo Anche perché portarlo A Grado Viola Non è proprio Una minchiata Intanto mi prendo Tutti i reward Che ci stanno in giro Ok Allora Facciamo questa verifica Andiamo su Rhyperior Rhyperior Ho bisogno di vedere I tuoi valori Allora no Dove cacchio stanno Sì I values Sono i values Che aumenta Certo Quindi Me li scrivo Me li scrivo Da qualche parte Fatemi prendere Carte e penne No ragazzi Ho detto una minchiata Non aumenta I values Aumenta l'essential information Quindi abbiamo HP Che sono 548 S attack Che sono 163 S ed F Che sono 181 L'attacco Che sono 508 Difesa Che sono 566 E la velocità Che sono 128 Ok Ora Io andando Ad inserire Sandslash In quel trio Della Della potenza Dovrei aumentare Dello 0,5% Quindi Diciamo Su 5 punti Me ne aumenteranno 2 Minchia che merda Vabbè Però dovrebbero aumentare Quindi vediamo un attimo Ok Ok Activated Vedete un po' C'è scritto qui Activated Quindi Il mio Hyperior Ora dovrebbe essere Molto più forte Ragazzi Mamma mia Quanto sarà forte Porca di quella Puzzola Allora Type Attenzione Come calcolato Quindi HP Sono aumentati 2 punti Siamo alpassati Da 548 A 550 S-Attack Da 163 A 164 S-Deaf A 182 Attacco Da 511 Figo Me li arrotondo In eccesso Mi piace questa cosa Da 566 La difesa 569 La velocità Da 128 A 129 Capisco che è una minchiata Però Tente conto Che questo è un Pokémon Di doppio tipo Quindi Se io ad esempio Riuscissi a fare Anche il trio Della roccia Sarebbe interessante Il trio della roccia Però È Rock Ecco Di questo trio Io ho solo Sudovudo E questi due No Quindi mi servono Lunatone Stonasone Qui di merda Che no no L'altro trio Che potrei fare È questo qua Bug Ma Bug Al momento Me ne frega Proprio Zero E anche Ghost Me ne frega Zero Mentre Mi interesserebbe Davvero tanto Questo water E questo water Ci posso arrivare Perché si King ce l'ho Tentacruel E crebbi No Kingler Li posso ottenere Perché Se vi ricordate C'è una zona Della mappa Dove si può Andare A pesca Dove Caspite Sta Qua sta Fishing area Vedete In quest'area Se non ricordo male Possiamo trovare Tentacruel Che io non ho ancora Pescato Regional Pokédex Le dà un po' Vabbè Shiny Whoop Poliwal Poliwil Poliwil Tentacruel E crebbi E poi li possiamo benissimo Fare evolvere Mi serviranno delle pietre Però È una cosa Decisamente fattibile Da posto Tra fishing area Non ho fatto Veramente un cazzo Sarebbe Buona cosa Catturare Un po' Di pokemon Di quest'area E terminarla E visto che Il mio obiettivo Per i prossimi episodi È proprio Di fare Questa cosa qui Penso che Lo farò Però Prima di procedere Voglio anche Ringraziare Poca miseria C'avevo il nome Ma lo sono dimenticato Allora Volevo ringraziare Roberto La rover Perché Ci ha dato Un suggerimento Che ora Verifico Con voi Allora In pratica È un suggerimento Per il training In pratica Allora Ora Ho tutti i pokemon Al massimo Ok Allora Facciamo il clearing Ovviamente Lo dovremmo utilizzare Su pokemon Che non sono tutti Al massimo Allora Bodyslam Sì Decisamente utile Se vi ricordate La scorsa Episodio C'era quel cacchio Di Snorlax Di merda Che di Bodyslam Mi faceva Veramente Il culo Ora Finisco Di Potenziare Sti pokemon E vi faccio vedere Sta cosa Allora Per esempio Il trucco È questo Io ho messo Tre pokemon Che stanno Guadagnando La loro Esperienza Allora Il pokemon Che Diciamo Prendo Che focalizzo Non guadagna Cioè guadagna L'esperienza In modo normale Mentre gli altri La guadagnano Molto più Velocemente Allora Guardate un po' Io ora mi focalizzo Su seeking Perché voglio Che pg8 E senslish Salgano Più velocemente Ragazzi Questo è da provare Non ne sono sicuro Che funzionerà Vi faccio vedere E vediamo insieme Se funziona Quindi io inizio a fare Clearing Su di loro Allora come vedete Guardate gli altri Come salgono velocemente Più veloce faccio Più gli altri salgono Vedete 237 237 255 276 In teoria Sta andando Molto più veloce Del pianistro Guardate Fa gli scatti Da 339 A 51 Cioè in teoria Questo dovrebbe essere 3 exp Al secondo Però io Più spammo Su clearing Più gli altri Pokemon Salgono velocemente Certo Un pokemon A livello Stratosferico Diciamo Che non è Proprio Il massimo Farlo Allenarlo A questo livello Però Può essere Una cosa D'aiuto Vedete Seeking si azzera Ogni volta Mentre gli altri Salgono decisamente Più veloci Ogni tanto Fa scatti Da 10 20 Cioè guardate Salgono Sarà un glitch Un bug Un qualcosa Certo E' abbastanza palloso Perché vedete Come sale lento Se no Guardate Questa è Nella velocità lenta Quindi funziona Grazie Grazie per questo suggerimento Grazie Perché Avendolo detto a me Io ho potuto condividere Aiuto Con tutta la comunità YouTube E Monster Italia Vedete Così salgono normali Se invece vado veloce Guarda 760 780 800 C'è una cosa pazzesca Paurosa Quanto cazzo Sali velocemente Maddannazione Sei velocissimo Eeeh Ringraziamo Eeeh La persona Ringrazio di cuore La persona che ci ha dato Questo suggerimento Perché Veramente 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 Funziona Grazie Eeeh Ora non mi hai fatto un cazzo Di avere questi pokemon qui Quindi Ok Tu quanti livelli hai preso Minchia A 4 livelli Li abbiamo fatto fare Anziché usare Diciamo le caramelle rare Ragazzi Con sto trucco Li facciamo salire subito Velocemente Che ne so Al 10 E ci permette di fare Il break In maniera velocemente Senza sprecare Caramelle rare Ma detto questo Ma detto questo Detto questo Ma tu che cosa sei Tu sei un Alakazam Ce n'è un altro Di Alakazam Quanti cazzi di Alakazam Charizard E mindiate varie Cioè Che caspita La pazzarola Però li potrei usare No non me li fa usare Nel support Va bene Detto questo ragazzi Penso che anche oggi Siamo arrivati alla fine Di questo episodio Eeeh Io dovrei Andare avanti Nella route 13 Ma dovrei anche Fare il potenziamento Dei pokemon acqua Eeeh In ogni caso Creppy Ce l'ho Quindi lo posso far evolvere A Kingler Seeking ce l'ho Mi manca solo Il Tentacruel E tentacruel Posso catturare Il tentacool Da qua Vedete C'è tentacool Cerco di catturare Tentacool Così facciamo il potenziamento Dei pokemon acqua Che sul Geridos Non mi fanno schifo Decisamente No Ci vediamo Nel prossimo episodio Io vi ringrazio Per aver visto il video Fin qui Se siete arrivati Fin qui Lasciate nei commenti Hashtag Pokemon support Hashtag Pokemon support E' una cosa abbastanza semplice Lasciate un like Commentate Condividete Se ti è piaciuto Questo video E un saluto Shrek A tutti Ciao Ciao